Controlli del NAS di Palermo in città, sequestri di alimenti e sanzioni ad esercizi di ristorazione. Nel corso dell'ultimo mese i militari hanno riscontrato una serie di condotte illecite in esercizi di ristorazione e di commercio di prodotti alimentari nel capologo siciliano. In particolare, preso due ristoranti, è stato accertato il mancato rispetto delle procedure HCCP nella trattazione degli alimenti ed è stata riscontrata l'assenza di aggiornamento della registrazione sanitaria per cui sono stati sottoposti a sequestro 17 kg di derrate nonché combinate sanzioni per 4.000 euro. Inoltre, in una macelleria sono stati sequestrati 40 kg di carne non tracciata. In una frigitoria e in un ristorante è stato rilevato che un locale era stato arbitrariamente adibito a deposito degli alimenti in assenza di autorizzazione sanitaria. In due esercizi di ristorazione non erano indicati correttamente nel menu e nella descrizione delle pietanze e la presenza di ingredienti allergeni con grave rischio per i consumatori. Sono stati posti sotto sequestro 25 kg di alimenti per inosservanza alla normativa sulla tracciabilità nonché elevate sanzioni per 7.500 euro. Infine, i carabinieri hanno scoperto una rimendita ambulante di prodotti ittici svolta in assenza di autorizzazione. Nel corso del controllo sono stati sequestrati 30 kg di pesce non tracciato ed elevate al responsabile sanzioni per 2.500 euro.